Visto che sono elementi anche in parte storie che non abbiamo intravisto per ora ad esempio nella lettura delle prime pagine in questi giorni un po' perché possono essere un po' complicati dal punto di vista anche insomma giuridico, un po' districarsi può essere complicato ci facciamo dare una mano e ci facciamo raccontare di che cosa stiamo parlando torniamo a parlare con Antigone, in particolare con Alessio Scandurra Ciao, bentornato qui su Play Ciao, buongiorno Allora, intanto ti ringrazio per essere qui con noi per darci una mano rispetto a questo argomento si parla di una DDL che minaccia il nostro Stato di diritto e che se diventasse legge incarcererebbe anche Gandhi evidentemente insomma la preoccupazione è alta, stavo giusto leggendo il titolo del comunicato stampa insomma di che cosa stiamo parlando, che cos'è questo DDL? In sintesi io ti direi che è un approccio che in questi anni abbiamo già visto molte volte cioè rispondere, cercare di costruire il consenso e rispondere a qualunque problema o a qualunque fenomeno sociale con più pene, più carcere, più sicurezza quindi come dire, il linguaggio non è un linguaggio nuovo il livello a cui però si porta questo intervento è un livello superiore rispetto a quello che abbiamo visto in passato la criminalizzazione, la guerra alla povertà o alle fasce più marginali il reato di tutto il disegno di legge introduce una serie di misure contro l'accastonaggio che in questa modalità era tanto tempo che non avevamo un attacco così frontale alla povertà molte norme pensate per gli stranieri per facilitare la criminalizzazione degli stranieri torna un tema che già abbiamo visto in questa legislatura una diffidenza, una paura nei confronti dei giovani e dei comportamenti più legati ai gruppi giovanili per cui il reato di blocco stradale che questo disegno di legge dice in maniera diversa si intravede dietro chiaramente l'intenzione di colpire le proteste ambientaliste di questi anni quindi per certi aspetti i bersagli di questo intervento sono sempre gli stessi perché sono bersagli che probabilmente nell'ambito di una fascia dell'elettorato creano consenso ma che a furia di riterarli finiscono per cambiare fisionomia al nostro paese un'altra cosa ricorrente è questo ruolo centrale delle forze dell'ordine come pilastro della nostra convivenza sociale come simbolo delle istituzioni per cui si introducono delle aggravanti se i reati sono compiuti a danno se aggressioni, violenze sono compiuti a danno di soggetti che appartengono alle forze dell'ordine creando una disparità ingiustificata rispetto ad altri pubblici ufficiali ma soprattutto accreditando quest'idea che il volto dello Stato è il simbolo che va tutelato quando si vuole tutelare lo Stato sia la divisa in qualche modo chiaro si dica l'autorità statale con la divisa che è una cosa che non fa parte della nostra cultura istituzionale la divisa è comunque come tanti altri pezzi delle nostre istituzioni sono istituzioni a servizio dello Stato di diritto esatto, sì questo elemento si sta decisamente perdendo tu parli di cultura istituzionale allargando il discorso della cultura in generale ho il sospetto che dal punto di vista culturale questo tipo di divisione insomma questo disegno di legge insomma come ci stai raccontando da seguita a una certa visione del mondo quella appunto in cui cerca si pone in primo piano la sicurezza si pone la detenzione o la punizione come risoluzione di tanti problemi e si criminalizzano alcuni elementi che sarebbero parte invece del dibattito pubblico insomma il fatto che ci sia che io colga così poca attenzione rispetto a questo argomento mi fa pensare che forse questo tipo di cultura purtroppo si stia allargando e purtroppo stia andando a colpire magari invece anche aree politiche che vi erano distanti fino a qualche tempo fa non so se è anche la vostra percezione questo sicuramente diciamo tante norme di questo disegno di legge sono un ulteriore passo avanti in una direzione che già era stata fatta in anni precedenti quindi è chiaro che non guardando alle singole norme certamente non non si vede la grande notizia non si vede l'elemento di di grande novità e di rottura però messi assieme nel loro complesso e insisto questo ritorno in varie norme poi della centralità delle forze dell'ordine come simbolo delle istituzioni questo in qualche modo un profilo di novità ce l'ha per noi che ci occupiamo di carcere soprattutto di carcere fa impressione in particolare quest'idea del reato di rivolta carceraria perché il carcere ovviamente qualunque fatto illecito commesso in carcere è un reato esattamente come se fosse commesso fuori e invece costruire questa fattispecie specifica punita con pene molto severe anche per fatti appunto non violenti di resistenza anche passiva all'ordine legittimo dell'agente di polizia ci spaventa perché noi vediamo una stagione in cui il carcere è sempre più in sofferenza e invece di mettere risorse risposte per affrontare questa sofferenza si cerca di silenziare totalmente quel mondo lì spegnere ogni forma di protesta ogni forma di appunto di ogni voce che voglia farsi sentire ed è ovviamente uno scenario spaventoso specie se si pensa che comunque invece i suicidi aumentano quindi in qualche modo la sofferenza cresce la sofferenza non ascoltata ci viene insomma ancora per l'ennesima volta quella visione della persona detenuta come persona che è lì per essere punita e quindi insomma tutto il resto passa in secondo piano e quindi va limitata senza altro la sua capacità d'azione ci di questo elemento in particolare come insomma facente parte della visione di Antigone e chiaramente anche tutti gli altri elementi di questo di questo DDL che porterebbero magari al carcere per determinate azioni che al momento non lo portano riguardano i diritti dei detenuti in potenza nel senso che si genereranno nuovi detenuti in via di questo per via di questo disegno in tutto questo appunto Antigone e ASGIS appunto voi di Antigone assieme ad ASGIS state cercando di fare un po' pressione avete pubblicato un documento in cui molto nel dettaglio è andata a ragionare sugli elementi di questo DDL ci sono dei passi ci sono c'è qualcosa da seguire insomma a che cosa dobbiamo stare attenti insomma riguardo a questo tema ma diciamo che comunque un'analisi approfondita della gran parte delle norme ci porta a un esito in qualche modo anche come dire anche facile anche lineare nel senso che noi non chiediamo emendamenti di questo di questo disegno di legge perché lo troviamo da tanti punti di vista sostanzialmente inemendabile il modo in cui si il modo in cui si pongono le norme il modo in cui si affrontano i problemi è sbagliato alla radice e quindi alla fine il documento non chiede modifiche specifiche su temi specifici ma chiede di rifiutare in blocco questo approccio all'idea in qualche modo di governo della società che è un governo che è fatto senza governare senza farsi carico dei problemi senza senza volerli nemmeno conoscere nella loro complessità questi problemi ma invece rispondere col diritto penale e con misure così di rassicurazione simbolica della popolazione dell'elettorato non è questa la sicurezza non sono queste misure che producono sicurezza nel senso di produrre ad esempio minore criminalità ma non sono misure che producono sicurezza neanche nel senso di produrre rassicurazione perché comunque è una narrazione di guerra civile continua in qualche modo di guerra alla povertà di guerra all'immigrazione è una narrazione che produce ansia che produce insicurezza quindi diciamo giova da un punto di vista elettorale e basta chiaro chiaro però insomma le conseguenze al di là del risultato elettorale ce le sentiremo sulla nostra pelle speriamo chiaramente invece che non vada in porto questo disegno di legge io consiglio senza altri nostri ascoltatori ancora una volta di tenere d'occhio Antigone e Asgi sia per insomma l'azione di pressione che vi stiamo raccontando ma sia anche dal punto di vista informativo rispetto a questi a questi temi che come vi dicevo sono un po' relegati messi da parte se non insomma con alcuni lampi qua e là che riportano il tema in primo piano insomma non in maniera non in maniera costante quindi grazie mille davvero Alessio Scandurra per questo approfondimento ci sarà senz'altro modo di risentirci quindi per ora grazie mille alla prossima grazie a te a presto grazie a te